Benvenuti in questo video dedicato ai castelli più belli d'Italia. In questo emozionante viaggio, esploreremo alcune tra le più affascinanti fortezze che punteggiano il paesaggio italiano. Da nord a sud, attraverso le regioni storiche del nostro splendido paese, ci immergeremo nella storia millenaria, nell'architettura maestosa e nelle atmosfere misteriose di questi castelli. Ogni fortezza racconta una storia unica, custodisce segreti e offre viste spettacolari. Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Se volete anche darci una mano per creare contenuti migliori, potete supportarci con il pulsante super grazie che trovate sotto il video. Ma ora partiamo! Al prossimo episodio Non è stato per nulla facile sceglierli, ma ecco i castelli che a nostro avviso sono tra i più belli d'Italia. Il Castello Sforzesco. Situato a Milano, è una magnifica fortezza rinascimentale che testimonia la grandezza e la potenza della famiglia Sforza. Con le sue imponenti mura, torri e cortili, il castello è un simbolo di prestigio e splendore. All'interno si trovano numerosi musei, tra cui la Pinacoteca del Castello Sforzesco, che ospita una collezione di opere d'arte di grande valore. Il Castello è circondato da un ampio parco, il Parco Sempione, che offre un'oasi di verde e tranquillità nel cuore della città. Il Castello di Sirmione. Situato nella splendida cornice del Lago di Garda, incanta con la sua imponente architettura medievale e la sua posizione privilegiata sulla punta della penisola. Le sue possenti mura, la torre di avvistamento e gli affreschi storici raccontano storie di antichi fasti. Da qui si può godere di una vista spettacolare sul Lago di Garda e sulle montagne circostanti, creando un'atmosfera magica e suggestiva. Castel del Monte. Situato in Puglia, è un'opera d'arte architettonica senza eguali. Questo castello, con la sua forma ottagonale distintiva e la sua simmetria perfetta, è un esempio straordinario di architettura medievale. Le sue pareti sono arricchite da decorazioni raffinate e misteriose, mentre l'interno ospita spazi suggestivi. visitare Castel del Monte significa immergersi in una dimensione storica affascinante e ammirare la bellezza senza tempo di questa meraviglia architettonica. Il castello di Malcesine. Posizionato sulle sponde settentrionali del Lago di Garda, è un vero gioiello medievale che domina il pittoresco borgo di Malcesine. Con la sua maestosità e il suo fascino senza tempo, il castello offre una panoramica incredibile sulla città, sul lago e sulle maestose montagne circostanti. I visitatori possono addentrarsi nella storia, esplorare le sale e godere di una vista incredibile dai bastioni. Il Castel del Lago. Situato nel Golfo di Napoli, è un'antica fortezza con una posizione pittoresca su un isolotto. Con le sue mura maestose e le torri di avvistamento, offre una vista panoramica da non perdere sulla città di Napoli e sul mare circostante. La leggenda vuole che un uovo di magico potere sia stato sigillato nelle fondamenta del castello, dando così il nome dell'uovo. La Rocca Calascio. Situata nell'Appennino Abruzzese, è una suggestiva fortificazione medievale che si erge maestosa sulle colline. Con la sua imponente struttura e la posizione panoramica, offre una vista mozzafiato sulla valle sottostante e sulle montagne circostanti. La sua atmosfera e il senso di storia che permea l'aria, rendono la Rocca Calascio una meta imperdibile per gli amanti del Medioevo e dei panorami. Il Castello di Miramare. Situato a Trieste, è un'incantevole residenza nobiliare con vista sul golfo di Trieste. Circondato da un meraviglioso parco, il castello si distingue per la sua architettura elegante e le sue decorazioni raffinate. All'interno, gli interni sontuosi e i preziosi arredi fanno rivivere l'atmosfera di un tempo passato. La posizione privilegiata sul mare e i giardini ben curati creano un'atmosfera romantica, rendendo il castello di Miramare una meta emozionante. Il Castel Sant'Angelo. Situato a Roma, è un'imponente fortezza che affascina con la sua storia millenaria. Inizialmente costruito come mausoleo imperiale, è poi diventato una rocca difensiva e successivamente una residenza papale. Con le sue possenti mura, le torri maestose e i ponti che lo collegano alla città, il Castel Sant'Angelo offre una vista spettacolare sul fiume Tevere e sui monumenti storici di Roma. Oggi ospita un museo che racconta la sua ricca storia e offre la possibilità di esplorare le sue segrete e le sale ricche di tesori. Il Castello di Brisighella. Chiamato Rocca dei Veneziani, situato in Emilia-Romagna, è una meraviglia medievale incastonata tra le colline. Con la sua caratteristica torre campanaria e le mura fortificate, il castello domina il borgo di Brisighella. La sua posizione panoramica offre una vista emozionante sulla valle sottostante e sulla campagna. Attraverso le sue antiche mura è possibile esplorare le sue sale e scoprire la storia e la cultura del luogo, mentre i turisti possono ammirare gli affreschi e le decorazioni che adornano l'interno. Il Castello Estense. Situato nella città di Ferrara, incanta con la sua grandiosità e il suo fascino rinascimentale. Costruito nel XIV secolo come residenza dei duchi d'Este, il castello presenta possenti mura, torri maestose e un caratteristico fossato. All'interno si possono ammirare affreschi, arredi originali e una collezione di opere d'arte. Il castello è circondato da un meraviglioso parco, il Parco Massari, che offre un'oasi di tranquillità nel cuore della città. Il Castello Estense rappresenta un'icona della storia e della cultura di Ferrara. La Rocca Albornoziana. Situata nella città di Spoleto, è un'imponente fortezza risalente al XIV secolo. Con la sua posizione strategica in cima alla collina, offre una vista panoramica sulla città e sulle valli circostanti. Le sue possenti mura, le torri e le merlature la rendono un esempio affascinante di architettura militare medievale. Oggi, la Rocca ospita anche un museo che narra la storia della fortezza e della regione, offrendo ai visitatori un'esperienza culturale immersiva. Il Castello di Otranto. Situato nella città omonima in Puglia, è un imponente castello che domina il centro storico e il mare. Risalente al periodo medievale, il castello presenta un mix di stili architettonici, tra cui romanico, gotico e rinascimentale. All'interno delle sue mura si trovano cortili, sale affrescate e una cappella riccamente decorata. La posizione del castello offre anche una vista panoramica interessante sulla costa adriatica. Il Castello Ursino. Situato nella città di Catania, è un'imponente fortificazione medievale che affascina con la sua maestosità e il suo carisma antico. Costruito nel XIII secolo, il castello presenta una robusta struttura fortificata e una torre di avvistamento. All'interno, si possono ammirare affreschi originali e reperti archeologici che narrano la storia della regione. La posizione del castello, vicino al mare e al centro storico di Catania, lo rende una meta imperdibile per gli amanti dell'architettura e della storia. Il Castello Ruffo. Situato nella città di Scilla, in Calabria, è una magnifica fortezza che sorge sulla cima di un promontorio roccioso. Questo castello medievale offre una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulla costa circostante. Con le sue possenti mura e le torri di avvistamento, il Castello Ruffo rappresenta un'imponente testimonianza della storia e della difesa della città di Scilla. Il Castello Aragonese di Ischia. Situato sull'omonima isola nel Golfo di Napoli, è una straordinaria costruzione medievale. Si arge su uno sperone di roccia vulcanica e domina il paesaggio circostante con le sue mura imponenti e le sue torri merlate. All'interno del castello, si trovano antichi edifici, chiese, un monastero e un ponte levatoio. Offre inoltre una bella vista panoramica sul mare e sulle baie circostanti. Il Castello di Fenis. Situato nella Valle d'Aosta, è un'icona dell'architettura medievale. Questo castello, costruito nel XIII secolo, si distingue per le sue eleganti torri merlate e le sue decorazioni gotiche. All'interno, si possono ammirare affreschi medievali, arredi antichi e una vasta collezione di armi e armature. La posizione del castello, circondato dalle maestose montagne delle Alpi, aggiunge un'atmosfera magica e suggestiva al suo fascino. Il Castello di Bard. Situato nella Valle d'Aosta, è un'imponente fortezza che domina il paesaggio circostante. Risalente al X secolo, il castello offre una combinazione di architettura medievale e rinascimentale. Al suo interno ospita diversi musei, tra cui il Museo delle Alpi, che racconta la storia e la cultura delle montagne circostanti. La posizione strategica, inoltre, offre anche una vista panoramica incredibile sulla valle sottostante e sulle Alpi. Il Castello di Barletta. Situato nella città di Barletta, in Puglia, è una magnifica fortificazione che risale al XII secolo. Con le sue mura massicce e le torri maestose, il castello si distingue per la sua imponenza e il suo stile medievale. All'interno delle sue mura si trovano diverse sale affrescate e una cappella, oltre a una vasta collezione di armi e armature medievali. Il castello è famoso per essere stato teatro della celebre sfida dei Cavalieri di Barletta nel 1503, un evento storico che viene ancora oggi ricordato. Il Castello di Torre Chiara. Situato in Emilia-Romagna, è un gioiello architettonico del XV secolo. Questa romantica fortezza, situata su una collina, è nota per le sue torri robuste, i cortili interni e gli affreschi che adornano le sue sale. La posizione panoramica del castello offre una vista mozzafiato sulle colline circostanti e sui vigneti della regione. Il Castello di Torre Chiara è un'attrazione molto amata dai turisti che apprezzano l'atmosfera fiabesca e la ricchezza storica di questa struttura. Il Castelvecchio, situato nella città di Verona, è un'imponente costruzione di età medievale che si erge maestosa sulle rive del fiume Adige. Costruito nel XIV secolo, il castello è famoso per la sua imponente architettura, le sue torri merlate e il suo ponte scaligero. All'interno, ospita un museo d'arte che conserva una preziosa collezione di dipinti, sculture e manufatti artistici. La posizione strategica, vicino al centro storico di Verona, lo rende un'attrazione imperdibile per gli amanti dell'architettura, della storia e dell'arte. Il Castelvecchio è sicuramente una destinazione imperdibile per chiunque visiti Verona. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante.